salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone benvenuti oggi vi porto una lavastoviglie veramente particolare un fuori misura un 6 coperti e andiamo a vedere subito le misure abbiamo un 55 centimetri di larghezza per un'altezza di 43,8 e una profondità di 50 centimetri è una lavastoviglie come vedete molto particolare perché ha solo un ripiano non ne ha due ed è una lavastoviglie per sei coperti per chi può essere questa lavastoviglie vedete è una classe f con le nuove classi energetiche sei coperti qui adesso andiamo a vedere che abbiamo il tasto accensione la partenza ritardata con le varie ore indicate 2 4 6 eccetera è della marca candy e qui abbiamo i vari programmi ne ha ben sei di programmi con il programma economico che è quello che dura di più ma consuma meno energia elettrica allora una volta messo il programma poi basta premere il tasto play e lei parte ci sono programmi che durano di più e programmi durano meno andiamo a vederla all'interno come vedete è un ripiano a qui abbiamo il posto per il detersivo ok come ho messo che va messo qua e poi va regolato con lo schema del brillantante abbiamo il cestello con il porta posate e il porta tazzine che possiamo regolarlo alzarlo per i calici o se dobbiamo mettere delle pentole qui abbiamo il nostro cestino e come vedete la misura è piccola perché se non sei coperti bastano sei forchette sei coltelli eccetera bene provo a togli un attimo il cestello per farvi vedere come è sotto la girante vedete che è una classica lavastoviglie con il fondo in plastica il fondo in plastica può sembrare più economico ma allo stesso tempo è più silenzioso perché l'acqua che cade sulla plastica è più silenziosa che su una lamiera questo è il filtro fatto tutto in acciaio e plastica lo spazio per mettere dentro il sale e quindi è una lavastoviglie normalissima solo che più piccola ridotta in misure possiamo metterla dove sopra un ripiano in cucina se non abbiamo spazio per una lavastoviglie su una barca in campeggio in una stanza o casa molto piccola vado a mettere questa lavastoviglie qua comunque per sei persone bene signori se volete acquistarla vi lascio il link in descrizione oggi siamo da grandin expert di caurle se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale che non costa nulla mi aiutate a crescere e attivate il tasto delle notifiche spero di portarvi altri video con prodotti un po particolari come questa lavastoviglie della candy che secondo me è carina ciao ciao